80.000 euro. A tanto ammonta il sequestro eseguito nei giorni scorsi dai finanzieri del comando provinciale di Salerno nei confronti del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici, già vicesindaco di Cava dei Tirreni. L'intervento è stato eseguito nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica volta a verificare i presupposti per il versamento da parte dell'amministrazione comunale delle ritenute assistenziali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dirigenti. Le norme in vigore prevedono infatti che il comune provveda al pagamento dei contributi all'Inps solo per gli eletti che lavorano esclusivamente per l'ente locale. In caso contrario l'obbligo resta in capo agli stessi amministratori. Ed in vero il nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno ha accertato che diversamente da quanto dichiarato nelle autocertificazioni il primo cittadino e l'assessore avevano di fatto continuato a svolgere in pieno mandato elettorale altre attività professionali, l'uno quella di consulente assicurativo e l'altro di amministratore di un'impresa di costruzioni per le quali percepivano regolari compensi. In definitiva i due amministratori facendo risultare un rapporto di lavoro esclusivo con il comune avevano fatto sì che i loro contributi gravassero sul bilancio dell'ente per garantire la restituzione delle somme illegittimamente versate la procura ha quindi emesso un provvedimento di sequestro d'urgenza dei conti correnti del sindaco e dell'assessore chiamati ora a rispondere dell'indebita percezione di oneri previdenziali rispettivamente quantificati in 60 e 20 mila euro.